Per poter trovare i 5.000 dollari, Jack ed Elwood vanno a parlare con Maui, italo-americano impresario della zona, presso la sauna della città. Maui, tu sei in debito con me, suoneremo comunque, dovunque e per chiunque. Non lo so i ragazzi, proprio non lo so, sento le trame sessi, sia etero che gay, la gente che vuole ballare, la nostra musica è ballabile, i giorti, i tempi sono cambiati, non lo volete capisci, 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 non si fa, lo stesso, aspettate, con queste vestite, ti aspettano molto, spaventerete un po' la gente, senti Maui, ma voi non ti portate male, i giudizi, ho da tutti, come complessi di tutto il mondo, senti Maui, senti, quel lavoro ci servono, ci servono 5.000 dollari e alla svelta. 5.000 dollari, 5.000 dollari, ma chi vi credete adesso? Eh? 5.000 dollari, 5.000 dollari, 5.000 dollari, 5.000 dollari, 5.000 dollari. 5.000 dollari, 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 5.000 dollari ci ripete in quella sala lei e 5 minuti andate di secondo ok ok allora prendeteci per domani sera vediamo oh 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 seduta cecchia ma che minchia te fa dicendo bisogna preparare la campagna pubblicitaria se per quello non ci sono problemi io ce ne ho un'altra in campagna santa rosaria questi sono pazzi dite picciotti lasciate perdere di un po' di un po' di un po' come sta tua moglie beh avrei dove stare in linea da raccontare sai mi sta ricattando cecchia se la vuoi mettere così quel posto ci serve per vedere la svelita siamo vissi le pre-concertive mamma ok picciotti vi do il palazzo ragazzi sì sì andiamo ok ben saluto madonna l'auditore una reggia e quando la riempiamo la dobbiamo già stasera sono in gioco alla vita di milioni di innocenti cosa vuol dire cosa ma che se stanno arrivando ragazzi ma guardate 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 dalle occhiate dalle occhiate no non stanno arrivando ragazzi io me ne vado no no poteva andare conoscete conoscete l'impicciona no la conoscevano sempre l'impicciona e io l'impicciona si la conoscevamo l'impicciona ok ok l'impicciona l'impicciona dalle occhiate l'impicciona ci hey folks here's a story about Minnie's a butcher she was alone down here she could she was the roughest toughest rail but Minnie had a heart as big as a whale high-dee high-dee Grazie per la visione 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 Grazie per la visione